Non capisco, perché credi che sia qui? Questo è il cartone che va in onda da più tempo Forse Vicky è in questo episodio L'impianto nucleare? Oh no, non posso fermarla da solo Non avrei mai voluto dirlo, ma... Qui serve un adulto in gamba Oh no, che schifo, sono questi gli adulti qui Andiamo! Ehi, te la cavi bene? Grazie, ho imparato alla tua età Che cosa gli è preso? È questo canale, qui gli adulti sono imbranati Andiamo!